soprattutto in serata. Andiamo alla Vergine, bella luna, parla di rapporti sociali ma parla anche della capacità che voi avete in questo giorno di mettere in evidenza le vostre qualità fatte di organizzazione, di precisione, di raziocinio, ce n'è bisogno amici della Vergine soprattutto sul posto di lavoro perché voi siete sempre una presenza preziosa quando si tratta di organizzare. E' chiaro che questa è una luna che però da un punto di vista sentimentale, si fa prendere un po' la mano da questo Marte nel segno del Capricorno vicino a Plutone, la passionalità in questo periodo è davvero altissima e certe volte irresistibile e qui mi rivolgo ai più giovani che potrebbero perdere facilmente la testa soprattutto sotto questa luna. Andiamo al...